Oggi Gerardo avrebbe fatto 90 anni, con lui stavamo organizzando il Festival della Filosofia a Napoli, un ricordo struggente e pieno di partecipazione emotiva, perché mi sono legato al rapporto di amicizia e di affetto con Gerardo Marotta, quindi la città lo sta ricordando e lo ricorderà sempre come merita. Oggi ci sono tante iniziative, tra cui due, una stamattina all'Istituto Italiano e all'Istituto di Filosofia, e poi c'è un'altra da qui a poco, la quale parteciperò anche io, a Scampia. Quindi Marotta è una personalità che fa parte, pur non stendoci più tra di noi, fa parte della vita quotidiana della città, il suo monito morale, etico, filosofico, intellettuale, culturale, politico e molto vivo, presente.